Salve a tutti amici e bentornati all'avventura di Go Fishing. Oggi vi porto in un piccolo torrente friulano dove abbiamo praticato la tecnica del Tenkara e dove abbiamo avuto veramente dei bei risultati. L'unica cosa ormai, come in tutta questa stagione ormai vi sto dicendo, sono i livelli particolarmente bassi dell'acqua che purtroppo un po' ci hanno penalizzato in questa uscita di pesca. Niente perché tutte le trote erano un po' imbucate, già il torrente è piccolo, poi aveva poca acqua e quindi prendevi tre quattro trote diciamo così nella buchetta, poi ti spostavi, ne prendevi ancora un paio, era tutto un camminare, andare alla ricerca. sarebbe stato più divertente se i pesci fossero stati meglio distribuiti insomma per avere più scenari di pesca, ma comunque la giornata è andata bene, ci siamo molto divertiti, abbiamo fatto belle catture di trote native, un po' di tutte le misure, siamo andati dai 10 ai 25 centimetri, 28 più o meno, che per me insomma in quel torrente lì sono già dei gran bei pesci, i pesci erano sani, tiravano bene, erano proprio ben pinnati e pesci fantastici che poi vedrete anche nel video. Detto ciò vado anche a illustrarvi un po' qual era l'attrezzatura che abbiamo usato, abbiamo usato, ormai lo sapete io pesco con le canne da Tenkara della Nissing, abbiamo usato una 4 metri azione 7.3 e una level line di 4 metri con un tip più o meno di 70 centimetri come vuole la tradizione. Ecco, una particolarità, io non uso il fluorocarbon come tip, uso un nylon normale, abbiamo usato un tip dello 0,16 a volte l'ho calato allo 0,14 e comunque le trote salivano volentieri anche se il diametro del filo era un po' grosso comunque. Le kebari che poi vi farò vedere nella terza parte del video, perché anche questo video, come al solito, sarà diviso in tre parti, quindi questa che è la prima parte introduttiva, una parte centrale dove ci sarà la giornata di pesca e la parte finale dove vi farò vedere la kebari del giorno, quella che ovviamente ha reso di più durante la giornata, anche se ne abbiamo usate svariate, ma una in particolare si è distinta per il numero di catture che ha fatto e quindi ve la farò vedere alla fine del video, quindi mi raccomando, restate incollati al video fino alla fine. Dicevamo dalle kebari andavano alla misura del 10 e del 12, senza nessun problema abbiamo visto che le attaccavano volentieri. Bene, cosa posso dirvi ancora? Niente, vi lascio alle immagini del video, spero che sia di vostro gradimento, se vi piace ovviamente lasciate un like e ricordatevi sempre se vi va di iscrivervi al canale per restare aggiornato su tutte le mie avventure di pesca, un saluto a tutti e a presto con le nuove avventure di GoFishing, un saluto a tutti, ciao ragazzi! Grazie a tutti! 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 ! 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